Cari amici, benvenuti nell'atteso video dove dichiareremo il vincitore del contest numero 5 di Minecraft! Questo video è stato richiesto perché abbiamo dovuto avere un minimino di tempo tra quando è finito effettivamente il contest e quando mettiamo il video con l'estrazione del vincitore. Cari pampini, eravate quasi 2500, dovevamo leggere i vostri messaggi, dovevamo vedere se avevano senso le risposte, dovevamo vedere quelli privati, i commenti sotto il video, quelli che sono divertiti a mandarci le cose due volte, eccetera, eccetera. E dovevamo scrivere tutti i vari nomi nel nostro programmino The Hat, quindi questo vale per questo contest e anche per quelli futuri. Quando finisce il contest non coincide mai con l'estrazione perché ci vuole un pochino di tempo, perché se noi lo decidessimo a tavolino oppure dicessimo andiamo nella prima pagina a caso, toh hai vinto, sarebbe molto più veloce anche per noi. Però dato che un'estrazione è casuale ci vuole un pochino di tempo, questo per ricordarvelo anche dei futuri. Il primo che la prossima volta, per il prossimo contest che sarà molto vicino, dopo questo video, si azzarda a chiedere a un minuto dalla fine del contest quando, se sono risultati o chi ha vinto, gli metto un creeper sotto il letto, uno zombie nel bagno, uno slime nel gabinetto, uno scheletto nell'armadio, anche uno della dispensa e anche uno zombie pigman che vi dà il buongiorno ogni mattina. Benissimo, quindi bando alle ciance e uno spider joke sul porta ombrelli. Facciamo un bello shuffle, ok? Giusto per girare un pochino, facciamone due che siete più contenti, così abbiamo fatto un pochino di random casuale e ora partiamo decretando il nostro programmino. Sceglierà casualmente tra chi ha partecipato il vincitore di questo account premium di Minecraft. Siete pronti? Vediamo cosa dice il cappello. 3, 2, 1... Mau! Oh! Rikki Zikki! Rikki Zikki complimenti! Sei il vincitore di questo quinto contest. Di Minecraft! Se non si è ancora capito. Ci raccomandiamo, inviaci un messaggio privato a questo canale e noi naturalmente ti risponderemo al prima possibile inviandoti un gift code per avere un account premium di Minecraft. Minecraft! Ringraziamo tutti coloro che comunque hanno partecipato anche se non hanno vinto e naturalmente li invitiamo a partecipare fin da ora al nuovo contest di Minecraft, il contest numero 7 che è successivo a questo video. Quindi, grazie ancora stati con noi in questa estrazione, complimenti al vincitore, ma comunque complimenti a tutti per averci provato. Speriamo che possiate avere maggiore opportunità nel prossimo contest. Detto questo, vi salutiamo e vi lasciamo al nuovo contest! Ciao!